Ciao, mio nome è Fortunato Leocata e oggi ho preparato per voi un pan friggio con potato di risposta. Abbiamo un bello bello che è fresco, deve essere difficile, quindi potete vedere che il bello è molto fresco. Poi mettiamo un po' di salto, un po' di salto e un po' di pepe. A due parti prendiamo l'olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-olivo. Allora, mettiamo il cod in una pancia in una pancia. E sear sui due parti. Non bisogna cuocere il fischio in una pancia, perché sarà preparato in una pancia in una pancia. Quando vedete la pepe o il cod si vede in una pancia 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 in una pancia. O Zahl. Questo aiuta a non sè male il fischio nella pancia. I cacchi suolula, poi alla mattina, nel centro con cuocere nel porno. Siamo preparati la giornata. Ma l'allestazione escoglie lo principale deve l'olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-olivo-oliveんでindungi. Garlick Sherry tomato Gravina Pomodori pelati Salt Peppero Olive oil Chili Garlic Se vuoi avere Spice, puoi aggiungere più Se vuoi avere meno spice, puoi ridurre Poi mettiamo il nostro Gravina tomato Sherry tomato Lemon juice Some lemon zest I would like to give it to you Good tips to use the Fresh basil Don't slice by knife Just pick Your basil by hand This will give it The right fresh Test to the sauce So let's finish Little bit more Extra virgin olive oil Rock salt For the crispy potato Using a mandolin Slice Till You get A nice petal of potato You can use a fryer Or you can use a deep pot With some Fry oil Look what a nice crispy potato So let's put our cod So let's put our cod In our Fresh tomato sauce With basil, garlic and chili Let's finish our dish With some Crispy potato Crispy potato Some fresh basil And the cod is ready To be continued To be continued To be continued To be continued To be continued